OnlyTest è un'applicazione 2.0 del web che permette la creazione di test e verifiche online. L'interfaccia si apre subito con la suddivisione fra insegnanti e allievi. Sulla destra possiamo vedere un breve tutorial che ci spiega come funziona l'applicazione in caso di dubbio. Scrollando verso il basso possiamo vedere quelle che sono le funzionalità di questa applicazione, quindi la creazione di test online, preferibilmente indicati per mettere scientifiche. Molti sono i vantaggi di questa applicazione online, tra cui la correzione di errori, la possibilità di avere grafici e statistiche riepilogative. 5 sono le principali tipologie di esercizio che un insegnante può utilizzare nella creazione delle verifiche. L'iscrizione è facile e gratuita. Tutto la registrazione come insegnante, quindi accedo con le mie credenziali. Quello che vedrò sarà questa pagina, andrò su nuova classe, se voglio creare una nuova classe, inserendo il nome della classe e matera insegnata. Quindi, quarta di matematica, vado su crea, si aprirà questa interfaccia che mi permetterà di aggiungere gli studenti e le mie verifiche. Nell'inserimento delle verifiche potrò scegliere la tipologia di esercizio, fra scelta multipla, vero o falso, testo bucato, domanda aperta. Le possibilità che questa applicazione mi permette riguardano anche il tempo che gli studenti avranno a disposizione. Posso scegliere l'ordine degli esercizi e la valutazione, quindi la metrica utilizzata nel momento in cui l'insegnante andrà a decidere i voti e come mettere i voti. Questa era l'applicazione OnlyTest, grazie a tutti per l'attenzione. Scegliere l'ordine degli esercizi e la valutazione. Scegliere l'ordine degli esercizi e la valutazione.